Prima ero ingegnere, cioè sono ingegnere ancora adesso, una laurea che non perderò nel tempo. Sono un'ingegnere gestionale e quindi ho messo a servizio di questa attività la mia preparazione gestionale. Mi sono laureata in giurisprudenza e poi ho seguito la carriera della tv come producer televisiva, avendo però sempre nel cassetto questo sogno di occuparmi dei bambini e dei servizi per i bambini. Quando poi sono diventata mamma sono riuscita a realizzare questo sogno insieme a Marcella, coniugando le due passioni, l'essere mamma e quindi donna che ha scoperto questa nuova dimensione femminile e stare insieme ai bambini e quindi è nato il boom Milano Mamme. Il mio bambino ha seguito con me i laboratori creativi l'anno scorso e il gioco in inglese, che erano delle lezioni nella sessione estiva per avvicinare i bambini all'inglese, insomma giocando. Io sono mamma di un bambino, Filippo, che ha due anni e sette mesi, che ho portato a fare diversi corsi, ovviamente avendo la fortuna di aver creato questa struttura, lui può testare i corsi. Ci siamo trovate in questo progetto comune e abbiamo avviato questa attività con la forza anche dei nostri bambini, insomma, che si sono conosciuti nella pancia. Grazie a tutti.